Giorgio Fornoni, reporter indipendente, è uno dei finalisti del premio IADOC Rai al premio Ilaria Alpi a Riccione, 12esima edizione, con il suo reportage giornalisti in prima linea. Un lavoro importante perché parla dei giornalisti che rischiano la propria vita per descrivere la verità, soprattutto in alcuni paesi come quelli della Russia. Il reportage di Fornoni è incentrato sulla morte, della quale non è ancora stata fatta giustizia, della giornalista russa Anna Politkoskaya e attraverso testimonianze non solo della figlia della giornalista ma anche di altri colleghi, nonché rappresentanti istituzionali, ha cercato di indagare in questa storia ancora misteriosa o comunque è stato quasi scoperto tutto? No, come dice anche la figlia siamo ancora un po' agli inizi di tutto questo anche perché non è facile, non sarà facile in Russia trovare il vero colpevole. Infatti già hanno denunciato delle cose, hanno fatto delle cose, ho dei testimoni che raccontano appunto dove addirittura Kadirov, presidente della Cecenia, si è immischiato in tutto questo. Addirittura qualcuno disse che Kadirov ha voluto fare un regalo a Putin quando era a Dresda, che era andato a trovare a Dresda per gli affari in Germania. Ecco, comunque ho voluto mettere insieme questo lavoro per due motivi principalmente. Uno, chiaramente avendo l'intervista perché avevo conosciuto Anna Politkoskaya e poi l'avevo incontrata e intervistata, avendo questo materiale che ritenevo importante e interessante anche divulgare e far sentire, ecco, quindi l'ho voluto proprio recuperare perché ancora tutto il lavoro nei suoi confronti è ancora in atto. Poi dall'altra parte i messaggi che lei dà, tipo quando parla di Al-Qaeda, tipo quando parla del perché delle donne diventano kamikaze, quando ti dice a un certo punto che le donne kamikaze, quando uccidono attorno a te il marito, il figlio, il padre, il fratello. Quindi questa gente, queste donne che non hanno nient'altro, attorno loro e non rimane altro che la vendetta. Ecco, quando ti senti dire queste cose io le devo recuperare, le devo far dire. Un commercialista, a 50 anni decide di fare il giornalista, poi instaura un rapporto con Milena Gabanelli di Report a Rai3 e da allora è un crescendo con inchieste, reportage pluripremiate. Sì, il commercialista l'ho fatto, dopo che ero garzoni di bottega, 20 italiani e così via, mi dovevo inventare qualcosa nella vita perché io facendo il garzoni non potevo affettare salame e vendere pane per tutta la mia vita. Ho cominciato a studiare e l'unica opportunità era quella a un certo punto di avere una disponibilità economica e avere un po' di cultura per riuscire a iniziare una vita totalmente diversa, un cammino diverso della vita. Certo, quel lavoro mi ha sponsorizzato la vita perché viaggiando per il mondo sai perfettamente che bisogna spendere tanto e quindi non avendo nessuno alle spalle, ero di famiglia povera, cosa potevo fare? Questo qui veramente mi ha dato l'opportunità di viaggiare per il mondo. Poi la fortuna di conoscere tanti missionari per il mondo, andandoli a trovare sempre, raccontando le loro storie, queste che vivono nelle precarietà umane, quindi dove sono i campi profughi, le guerre, le malattie. E quindi a quel punto ho avuto l'opportunità di essere vicino sempre alla sofferenza umana e da allora non sono riuscito più a farne a meno e faccio solamente questo. Come sceglie una storia da seguire? Beh, insomma, per esempio l'inchiesto che ho fatto sul Congo, quando ne parlavo con Milena, furto di Stato, come è possibile che in un paese così ricco, uno dei più ricchi del mondo, la gente sia così povera? E quindi si parte, per esempio, in questo senso, quando ho fatto il sfruttamento del petrolio sul delta del Niger. E perché? Perché si racconta sempre e solamente ciò che avviene nelle pubblicità, ma dietro cosa succede? Le multinazionali del petrolio fanno affari con governi corrotti, non lasciano neanche un gettone di presenza, invece lasciano inquinamenti, addirittura anche il gas flaring, con quelle fiaccole che bruciano, addirittura si presume che il 3% del CO2 è buttato in atmosfera, a livello globale sia anche questo. Mi riallaccio per concludere alla prima domanda, perché prima si parlava di giornalisti che rischiano la vita per svolgere il loro lavoro. Oggi si parla del premio Ilaria Alpi, una giornalista uccisa proprio mentre svolgeva il suo lavoro nel 1994 in Somalia. Ecco, oggi cosa prova ad essere qua, tra l'altro uno dei finalisti di questo premio, proprio per ricordare Ilaria? Sono onorato per questo, io ero stato proprio subito dopo anche in Somalia, conosco un po' anche le varie situazioni che succedevano, e addirittura volevo ricostruirla, invece quel lavoro l'aveva fatto poi una mia collega Sabrina Giannini di Report. Però io penso che come ha voluto dichiarare Anna Polikoska quando le ho chiesto, ma lei non ha paura del Cremlino? E lei ha risposto, tutti hanno paura ora, anch'io ho paura, ma questo fa parte del mio lavoro. E quindi io devo stare attento a quel che è il lavoro principale, la cosa principale. Qui soffre la nostra gente, la nostra gente viene uccisa, io devo denunciare queste cose. Quindi non devi guardare la paura, non devi guardare se vuoi fare questo lavoro, devi andare più in là. E andare più in là chiaramente arrivi sempre più vicino alla verità e più vicino alla libertà addirittura.